E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Tom Klein 6 Rainbow Six Sage Spero che vi piaccia Fatemi sapere qui sotto se vi piace con un like questo gioco Se volete vederlo di nuovo nel canale Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E se volete fare delle partite con me su Rainbow Six Qui siamo su computer perché mi è arrivata la scala grafica Siamo su computer e posso far girare anche questi giochi Se avete tipo questo gioco per la Playstation, per l'Xbox, per cose del genere Non si potrà giocare in cross platform Quindi dispiace utenti console Benvenuti utenti PC Quindi fatemi sapere qui sotto se anche voi avete Rainbow Six Sage per il PC E se volete fare magari delle partite con me Io vi ricordo che come sempre non sono il migliore giocatore al mondo Faccio video per divertimento, ok? Non un trattenimento Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione Ok vabbè Ragazzi io rimorrei qua Così sappiamo Se arrivano dalla porta Cavolo Questo non mi piace Cavera del cavolo Oh fuck Upstairs È tornata lì Yes he's here Be careful Ehm il tempo Ma è il prossimo Ma da dove cazzo è arrivato Cavolo Ma era su Era lì Sono passato davanti Perché non prendi la pistola Guarda a dire 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 Ho detto A dire A dire A dire Ma gli ho detto Destra Ho detto Ho detto Destra Guarda a destra Guarda a destra E va dritto So wait Eh Stay here Stay here Ok Con questo qua Del dock Questa pistoletta qui È ridata la vita Questa Questa La pistoletta da 40 Sorry guys Sorry Ma proprio Forse proprio a livello A livello 28 He's here He's here Ah no Cazzo l'avevo visto Yeah Cazzo l'avevo visto Perché non Stavo prendendo Bene la mira Però Si è mossa Proprio in quel momento Cazzo Ma vabbè Ok Stanno giocando Abbastanza Bene Siamo due a due Vabbè Giusto Prendiamo sempre il dock Perché il dock È una bestia Della Partita Cioè Del round Non del Tutti sopra Il drone I droni erano qui Ancora prima di là Ancora cinque secondi Non l'avevo sentito Non c'è più il drone Ho detto Ecco il drone Non c'è più Sono stato individuato Sì da dove Un nuovo caricatore Ho fatto individuarmi Ah ce l'ho qua Oh cazzo Vai destra 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 Bo voi guardate lì Io guardo qui Ma dove sento brutti Il drone Molesti Ah da lì Cazzo Ci sono le scuole Oh no 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 Cazzo Stava rando Ah Ah Ok Ah Perché era lì Perché era lì Questo Ma è morta tutta la parte Vabbè E abbiamo vinto Io sono secondo Con tre kill Un assist E il primo Con cinque kill Un assist Che è livello 29 Che dice Release or O l'ha detto un altro Vabbè Gide qualcosa Mi aspetto qui I droni Mi aspetto No dai Che culo Qua è da barricare Molto importante Questo mi ha quasi ammazzato Veramente gli ho spaccato Cominciamo bene Perchè stai all'estero Perchè stai all'estero Perchè stai all'estero Che fai esplodere le cariche lì Ok abbiamo quello lì Ok Here Here Blitz here Or Or montagne Non so se erano montagne Quello O chi altro Questa che è qualcuno Di brutto Oh oh Here Here E da qui False spot Please Here Madonna Quanto Quanto Rato Ricarica 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 Terrier Help me Un altro Quitato Care Here Quello Quanto 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 Quello Grazie a tutti Grazie a tutti